E' una squadra che non ha carattere, non lo so, se lo sapessimo cosa c'ha probabilmente l'avrebbero risolta, ma ha giocato bene i primi 20 minuti, benissimo e dopo basta, finito tutto, era un'altra squadra. Qua ci vuole uno che sappia un attimino prendere in mano lo spogliatoio, ci sono troppi galli nel polaglio qua, troppi giocatori che fanno le signorine, qua ci vuole uno sanguigno che batta un po' i pugni sulla panchina, se no non fai niente. I risultati sono piuttosto chiari, considerando che i giocatori li ha scelti lui, almeno la stragrande maggioranza credo che sia giusto che se ne va. Lerda e Serena mi sembrano che siano delle scelte sbagliate, forse costano una barcata di soldi, ma penso che figure come Iacchini e Papadopulo potrebbero essere la soluzione. è giusto anche il cambio di allenatore perché si vede che l'allenatore lì non gli dava quegli stimoli giusti probabilmente per andare avanti un po' più correttamente per la squadra, insomma era una squadra scolata, una squadra che non ha né capo né coda. È 30 anni che siamo qua, abbiamo una storia di 100 anni, non siamo stati mai così umiliati. no, 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 no Grazie a tutti.